eccoci qui appena finita la partita diciamo che bene sul risultato perché onestamente la partita non è stata per niente bella e in qualche caso siamo stati anche abbastanza fortunati col palo di Wisman tra l'altro sicuramente i migliori in campo Wisman insieme ruma altamente opaca stasera florenzi mamma mia florenzi non so come fa essere capitano onestamente della ruma manco in serie b dovrebbe giocare onestamente under pessimo under oggi pessimo 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 assolutamente peggiori in campo non bloccato niente di buono anche lo stesso Michi Tajani onestamente ancora annietto le condizioni partita che è buono solo risultato come ho detto io prima però passiamo alla seconda visto che l'Istanbul Basak Seir vince alla fine 2 a 1 come temevo e temevo anche peggio onestamente oggi perché la ruma quando da fa una cosa per forza è difficile che te la fa e infatti ci siamo complicati altamente la vita fazio stranamente stasera ha giocato bene florenzi male a mio avviso malissimo per carità ormai per me può anche fare valigi altro che bello di nonna tu qui bello di infarti che te fa ogni volta che pia la palla anzi che fa passare la palla visto che non blocca mai niente infatti puntano tutti sulla fascia sua perché sanno che è il punto debole della ruma quando gioca e facciamoci le domande perché non gioca con fonseca perché questo è il mister che appena vede che qualcuno non va ti fa giocare più e fa bene porca troia altro che se ogni volta i giornalisti florenzi non gioca florenzi non gioca florenzi non gioca florenzi non gioca per questi motivi perché è altamente scadenti porca troia per niente qualcos'altro onestamente scarso ecco e niente luma che pareggia 2 a 2 prestazioni onestamente non visti molto molto di meglio onestamente tra l'altro il boss berberger va beh ha preso anche un palo nel secondo tempo quindi a occasioni forse mirante ha fatto un bel miracolo e dopo tra l'altro ogni volta tanto c'è un infortunio ogni volta non siamo noi altri ormai dopo c'è la gente che si lamenta porca troia c'è il conte che si lamenta noi altri che tocca fare tocca cacciarsi con la testa dentro la terra perché porca puttana ogni partita c'è due tre infortuni addirittura i portieri che si infortunano ma per carità infatti appena manca smolling tu lì dietro è una bega grossa una grossa bega onestamente e infatti si è visto perché ballamo alla grande tu lì dietro appena manca un titolare in terra roma partimo di testa proprio e infatti è un fatto finale trailing perché vedo l'ora che finia sta partita perché dopo conoscendo la roma potrebbe potrebbe avere subito anche la beffa quindi per carità abbiamo questo risultato portiamo a casa e adesso però tocca a vedere chi più perché si è arrivato secondo e sicuramente beccherai una forte conoscendo la fortuna della roma sicuramente al cento per cento guardate primo posto in arrivati di istambul ma sa cosa era mamma mia alla faccia che dicevano che il girone questo era squilibratissimo era facilissimo si si infatti tra gli errori arbitrali che ci hanno stati in varie partite tra le cazzate nostre che in difesa famo altamente cacà soprattutto quando non c'è smuggling che spero che si riprenda presto perché se no davvero che è un casino tu lì dietro per carità spero che ritorni presto anche sant'onna perché florenzi è inguardabile tu li dicai a sta luce sembrava un paradisolo qui inguardabile è inguardabile spero che a gennaio qualcuno ce lo prenda perché per me è finita è finita qui ogni partita fa certe cazzate che manco un serie eccellenza ragazzi manco il Piero Antonio onestamente quindi via Fazio stranamente bene l'altra volta ha sferato anche il gol con una bella saracca e niente bene benino anche Zaniolo quando è entrato ha cercato le porte su un po' la squadra male under come ho detto prima davvero mi ha notato anche una bella panzetta onestamente quando hanno fatto l'inquadratura antiespogatoi quindi se li mettesse in forma perché lo vedo altamente scarente dall'inizio stagione infatti e niente diciamo che bene il risultato ma ha già prestazione bene i gol ovviamente bene Perotti sul 6 e mezzo di Daria anche perché veniva da un infortunio ecco lui diversamente da Under anche lui viene da un infortunio però se la la fa tutti dicono è finito è strafinito vendemolo a gennaio intanto è uno dei pochi che segna e fa l'assist che ha fatto anche l'assist oggi cazzo criticiamo quelli che tocca criticare porca troia non inventiamo le cose e niente passiamo alla seconda per fortuna siamo passati perché oggi davvero prevedevo che manco passavamo per carità e niente appuntamento alla prossima partita che con la spalla quindi ci sarà un'altra volta fazio visto che purtroppo Smalling non recupera e mi sa che non c'è manco Mancini se non sbaglio che l'ha diffidato e quindi mi sa che gioca ma non è sul successo il setting mi è voluto a capire mamma mia a Roma ti fa più anni infarto ogni partita c'è niente da fa è la storia della Roma questa purtroppo ora vediamo vediamo un po' chi cazzo che appamo sicuramente una Forti e speriamo di arrivarci con la gente titolare perché sennò la vedo alquanto dura soprattutto senza Smalling tu lì dietro mamma mia e niente appuntamento alla prossima e sempre 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 forza Roma grazie